Non mi senti? Devo rifà? Rifo, per te? Aspetta, levati la roba da noi. Allora, le cozze. Le cozze. Devo ricordarti che questa è Radio Italia, solo musica italiana, ma ti ringraziamo per questo compagno internazionale ai Talking Dance di David Byrne. Complimenti, non era facile questa assai copia. Bravo! Allora, vogliamo raccontare velocissimamente cosa abbiamo fatto qui in sera? No. Questo rimane un segreto tra voi e te, caro Marco, no. Vogliamo raccontare com'è stato questo debutto a Londra, a Casetà, le Olimpiane. Vero? Notevole? Domani vado a giocare a tennis. Ok, domani si va a giocare a tennis, andiamo direttamente a Wimbledon. No, non si riesce al parrucchino, guarda. Aspetta che provo. No, no, è tutto. Se tu gli sposti stanno così, se tu li metti così stanno così, se tu li metti... no, cos'ha? Stanno così. Fantastico. Eppure sono veri, sono assolutamente veri. Io volevo fare un applauso ai pazzi, alle pazze che hanno preso un aereo per venire apposta dall'Italia. Grazie a tutti, in verità, gli amici presenti e chiedo a tutti per favore un composo Gis per il nostro programma. Giafano? Giafano. 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 Bravo! 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 Comenca un batterista c'ha un... un sbrullà... Sì, 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 sì. Mamma mia, mamma mia, siamo pronti? No, no, se non sei pronto non sei rotto, cioè nel senso se tu dici sono pronto io sono brutto, cioè iniziamo a cantare, se no mi metto a dire un paio di cazzate come faccio al solito e allunghiamo un po', vieni, il brodo, buono da mangiare qui, eh? Buono? No, a Londra. A casa Italia? Se liamano True Italian Food and Wine. Grazie! Grazie! Buongiorno! 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 Spesi bene! Buongiorno! 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 Grazie.